Grazie Presidente, come dire, buon ultimo arrivò il Sunas. Intanto ringrazio tutti per la pazienza che avete di ascoltare fino all'ultimo intervento. Buon ultimo arrivò il Sunas ma non è l'ultimo ad aver cominciato a lavorare per la professione. Allora intanto io mi accingo a leggere il documento del Sunas a nome e al posto del Segretario Generale che è stato bloccato dall'Etna che è rutta e quindi è stato bloccato dall'aeroporto di Catania. Ma anche quello di Comiso e anche quello di Reggio Calabria per cui il Segretario non è potuto venire. Il Sunas si sente pienamente partecipe a questa giornata di celebrazione del ventanale dell'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali che segue di poco i vent'anni che abbiamo celebrato per l'attività del Sunas che è nato nel 90. Due storie che pur nella differenza dei ruoli hanno visto intrecciarsi obiettivi programmatici, iniziative, risultati, conquiste ma anche esperienze personali che hanno caratterizzato il percorso di avanzamento della professione. A partire dalla sua Costituzione nel 90 il Sunas proponendosi non solo come forza sindacale ma anche promozionale della professione pose tra i suoi punti programmatici, oltre a quelli legati a una diversa e più adeguata collocazione lavorativa, l'obiettivo dell'istituzione dell'Ordine Professionale traguardo che poi è stato raggiunto per l'appunto come è stato ricordato da altri interventi nel 93 con la legge 84. Vi sono stati molti altri risultati importanti a testimoniare l'impegno del Sunas, alcuni sviluppatisi sempre unitamente all'azione svolta dall'Ordine dal momento che c'è stato e dalle altre rappresentanze professionali, ASNA, SAIDO, SOSTOS che mi hanno preceduto negli interventi e quindi non starò a ricordarli anche per non perdere tempo per stringere. Ugualmente vogliamo ricordare però il contributo che ha dato il Sunas per l'emanazione della legge di riordino dell'assistenza, quindi la 328 del 2000 a partire da uno specifico congresso che venne fatto a Pestum nel 1997. Il problema del Sunas però non è di limitarsi solo a un momento di autocelebrazione, di guardare al passato, ma vogliamo guardare al futuro e con impegno. L'intento è quello infatti di continuare a trarre dalla storia le motivazioni e le ragioni necessarie per rinnovare e rafforzare l'impegno per il futuro, per la professione. In questa prospettiva si inserisce la sottoscrizione del patto per la professione proposto dal Sunas come un'alleanza strategica tra tutte le rappresentanze concretizzatosi nell'istituzione del tavolo tecnico presso la sede dell'ordine nazionale che tutti ci rappresenta, nella condivisione del progetto di legge di riordine della professione, nella costituzione dei gruppi di lavoro sulla formazione e sulle competenze esclusive a cui abbiamo lavorato. Nell'iniziativa anche questa proposta dal Sunas riguardante la questione del rischio professionale e della sicurezza che si è concretizzata lo scorso novembre al forum di Arezzo che è andata a buon fine con l'affermazione anche qui di un percorso unitario. Un percorso comune che deve necessariamente trovare un'ulteriore declinazione nel coinvolgimento e la partecipazione anche delle realtà ordinistiche associative, regionali e territoriali nonché delle nuove espressioni associative e rappresentative della comunità professionale a tutti i livelli. L'obiettivo da perseguire non è tanto la definizione o il riconoscimento del ruolo della nostra professione ma un aggiornamento del quadro normativo che regoli la nostra professione superando l'attuale frammentazione che lo caratterizza e che non tiene conto dell'evoluzione dei percorsi accademico-formativi sul piano scientifico e culturale. Dei vari atti e provvedimenti legislativi che dal 1993 in poi si sono succeduti a livello nazionale e regionale e che hanno riguardato aspetti giuridici, organizzativi e operativi attinenti alla nostra figura e che più in generale al servizio sociale e professionale. Sappiamo che non è solo un problema di legge e quindi non è solo un problema normativo anche se bene ha fatto il Croas accoglio l'occasione di dover rispondere all'obbligo di adeguarsi al nuovo processo di riforma degli ordini professionali voluto dal Governo mettendo in atto un tentativo più ambizioso e più compiuto di ridefinizione dell'intero ordinamento della professione intervenendo anche sulla formazione accademica attraverso la proposizione di un ciclo unico quinquennale. Si è scelto così di portare in alto la professione, di andare oltre la richiesta di un ulteriore accreditamento della professione che comunque pur con le tante criticità e difficoltà è ormai fuori discussione. L'intento è quello di riaffermare la fondatezza scientifica delle competenze legate alla definizione di contenuti teorici supportati da valori percorsi di ricerca in grado di rispondere realmente alle istanze professionali ad assicurare efficacia alla pratica e in particolare agli interventi volti alla risoluzione dei problemi consolidando l'idea dell'assistenza sociale, quale agente di cambiamento, questo è stato ricordato in numerosi interventi quale professionista non solo dell'aiuto ma attore, protagonista e perno centrale nella costruzione del nuovo welfare di comunità. Ciò significa che dobbiamo recuperare una forte dimensione politica e di impegno civile componente questa essenziale della nostra identità professionale ponendo una stretta connessione tra le nostre istanze professionali e quelle dei cittadini. Se oggi siamo qui è perché abbiamo già impocato la strada giusta per seguire un percorso unitario sia pure nelle differenze di ognuno come dimostra l'impegno comune che ci ha visti impegnati nella costruzione della proposta di legge prima e nell'elaborazione oggi dei documenti elaborati dai due gruppi di lavoro per l'appunto quello sulla formazione e quello sulle competenze. Con la costituzione del gruppo sulle competenze si è voluto rappresentare l'esigenza di delineare quelle che possono e debbono considerare competenze esclusive come si conviene per ogni professione e quelle che esclusive ancora non sono ma sono le quali vogliamo continuare ad impegnarci infatti è stato detto che il documento non è un documento indiscutibile ma in progress e quindi anche adesso in vista delle consultazioni che faranno le commissioni parlamentari daremo il contributo per migliorare il testo e per far sì che risponda alle esigenze di tutti noi. Come su UNAS confermiamo la piena volontà di continuare a sostenere il patto per la professione che vorrei brevemente ricordare oltre alla formazione e oltre alle competenze prevede altre questioni che sono contenute nella proposta di patto stesso e sulle quali ci auguriamo che poi che da gennaio in poi insieme all'ordine insieme a tutti gli altri potremo lavorare e quindi fare delle riflessioni unitarie. Dicevo come su UNAS confermiamo la piena volontà di continuare a sostenere il patto per la professione che va rafforzata attraverso adeguate forme di partecipazione rivolta all'intera comunità professionale ispirati sempre da un forte spirito unitario che rappresenta il vero motore propulsivo per una efficace e reale azione di promozione della professione. Grazie.